Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Maternity Idraotto e oggi siamo qui su Star Wars ragazzi Tra l'altro abbiamo cambiato il fucile e ora teniamo questo Che è un po' più scarso Non so perchè ci hanno messo questo fucile qui, non vi so dire Ma io no! Ragazzi stare seduti sul razzo non è una buona idea Ok Ma ragazzi noi siamo i cattivoni quelli là tutti mascherati Vai ragazzi vai Ma non è che questo fucile fa un botto di danno Questo fucile fa veramente un botto di danno Ok mettiamoci sull'aereo vai Vabbè Podcaptured Climate C'è anche il lato! Sì! Vai raga Ok Oddio proprio le Sembrano ragazzi Quelle lotte della Walt Disney Sapete Del Appunto proprio Tutte con i fucili da Se questi rumori così proprio Ragazzi questo che avete sentito Era un peto Dedicato a Palermo Doc Quel giocatore di merda Scherzo no Era solamente il mio naso che sta male Ma veramente male Ok Ok andiamo ragazzi Tra l'altro con un certo senso sembra di giocare a COD Veramente raga Solo Black Ops 2 leggermente modificato Black Ops 2 con le armi laser di AV Eh sì c'è anche il lato Vabbè assist Tranquilli proprio Vai ragazzi Vai raga Vai saliamo Oddio da qui possiamo Camperà Malissimo No Non riusciamo a salire Sicuramente Così sì Fare delle guerre laser su Dei vulcani Perché Gesù perché Ecco vai Che ho chillato raga Non lo so Anzi ho chillato qualcuno Tra l'altro sentite il rumore Boh No ma non ci facciamo niente con i blaster Ah ecco dopo un po' Invece con l'altro personaggio Quello lì Ecco questo stronzo Umano ti fa di più di danno Vabbè Proprio no Non possiamo cambiare il fucile Eh ok Vabbè Fotte sega ragazzi Ok Vai raga Prendiamo quel coso Questo Questo piccolo fulmine Che è scaduto Tra l'altro Che bastardi No Ma dove cazzo No raga Ma non è possibile Tieni la pistola Supposta Dai Oddio La pistola supposta No Oh raga I droni di surreal power Oh mio dio Sono i droni di surri raga Oh mio dio Lì No AMX popò Madonna Ma quale Persona sana Di mente Si chiama AMX popò No Io non lo accetto Per questo Mi butto Giù Al razzo Crepa Fanculo Bastardo Sono rimasto Un 25 Di vita Però Vediamo Ne sono troppi Ne sono troppi No Sono troppi Ci hanno fatto il culo Proprio Veloce Veloce 4 minuti Ragazzi Vai corriamo Verso la vittoria Oddio Vai Siamo 2 a 1 Ce la possiamo fare Ok Stiamo prendendo Il siluro Noi Bastardi No No Non lo prenderete Il siluro Ok raga Raga Mio dio Che difesa Mio dio La difesa Di maternity No No Non vale Abbiamo fatto Un sacco Di kill Ok La Signorina Ha parlato Quindi andiamo a prendere Noil Siluro Vai Oddio 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 ragazzi Sono 25 di vita Ok Oddio ragazzi Ecco ecco Mamma mia La kill Eh no La kill Poi dopo si muore Dopo la kill Sempre Ok Ma Possiamo andare Sì L'acqua Che figa ragazzi Oddio 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 Era un pazzoito Quello Lo stavo Climando Io Poi dopo C'è anche il lato Di brutto Tipo No ragazzi Non possono Climarlo Non possono Assolutamente No Il siluro Non lo devono Camperà Eh camperà Climà Eh pure camperà No no Ragà No No non mi piace La situazione Non mi piace Non mi piace Per niente No 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 Oh mio Dio Ok raga Vai Il pod Vai ragazzi Ci hanno dato Un'altra occasione Vai E noi la buttiamo Giù per il culo Che ovviamente L'occasione Si deve buttare Giù per il culo Andiamo a fargli Il culo Ragazzi vai Cominciamo a sparare Con lo stronzo Ok uno è morto Mo deve morire Quell'altro Raga buttiamoci Addosso No No ragazzi Abbiamo riclamato Il pod Si Guarda abbiamo Riclamato Ok ora di là Ragazzi tutti pronti Vai Ma il nemico C'ha proprio il culo Dalla sua parte Però eh Per dirla tutta Ma ragazzi No No non mi fa salire No 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 Non posso morire Così a strunzo Non potevo morire Neanche così A strunzo Da dietro Però eh Ok Abbrevieremo Per questa scorciatoia Di qui Ci deve essere Un nemico No Raga No Ma che bastardo No Non può camperare Lì così Ma che camper Di merda Come mi fanno Incazzare Sti stronzi Raga Se lo stanno Climando Bello è fatto Rore Clim No vabbè Hanno vinto Loro Ragazzi Non possiamo Non possiamo farci Non possiamo farci Quasi nulla Vabbè Moriamo così Almeno favoriamo La loro vincita Vittoria Come cazzo si chiama Fan cool Ma che vuoi Climare Che abbiamo Perduto Ho perso Malissimo Eh vabbè No Ancora Climare Ancora Raga Ma Il tempo Ci prende Per il culo O mi sbaglio Ragazzi Forse L'ultimo Dei pod Da Climare Ma raga Ci diamo Ci diamo Ci diamo No Non vale Non vale niente Non vale niente Così Non vale niente Si Ok ragazzi Vai Ma che cazzo Però Non è che La nostra squadra Da Grande persone Intelligenti In quattro di noi Andiamo addosso Al pod Ci difendiamo A vicenda E lo conquistiamo No Ce ne frega Defeat Che bello 8 kill 20 morti Score 1236 Ma loro Erano in maggioranza Non si fa C'è un fattore 13 kill Si Dai Volete un applauso Vai Vai Bravi Imbroglioni Di merda Rank 3 Ok Bene Così Tutti i crediti Direzioni E va bene ragazzi Per questo altro episodio È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Un abbraccio Matenti Rotto Vi ringrazio Tantissimo Per la visione Ciao 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 Ciao